Molti animali scappano dai loro predatori, ma solo perché un animale sa correre, non significa che sappia nascondersi da un predatore con un super udito. L'allocco di Lapponia vive nell'Artico, dove perfino in estate il suo pasto può essere sepolto sotto centimetri di neve. Per cacciare individua le sue prede preferite, topi e altri piccoli roditori, ascoltando i movimenti intorno a lui. Le piume attorno agli occhi funzionano come un'antenna satellitare, direzionando il suono verso le orecchie. Ciascun orecchio riceve il suono con volume e angolazione leggermente diversi, consentendo all'allocco di individuare con esattezza la provenienza del suono. Si concentra su una preda ignara che si trova a 60 centimetri sotto la neve e parte all'attacco. Continua ad ascoltare durante l'avvicinamento. Per un successo completo, gli allocchi sono diventati maestri della planata verso il basso. Il super udito stanotte assicurerà a questo allocco uno stomaco pieno.